Allora era questa la sorpresa? Sì. È bello averla qui. Beh, aspettate a dirlo perché... Anna B, coraggio, sei qui. E il più è fatto? Noi saremmo i suoi angeli custodi. Ma perché? Dobbiamo morire. È anche simpatica. Coraggio, su, andiamo. Buongiorno. Martina Sartori. Sì. Tenente colonnello della Guardia di Finanza. Oddio, mi sento male. No, 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 mi sono calma, eh. Ho visto tutto di lei, ho visto tutto di lei. Ho visto tutto, 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 tutti i film. Sono saputa la sepo sempre, veramente. È fantastico, è un onore per me. Manca ancora una persona. Però intanto andiamo, eh. Anna B, andiamoci. Signori, seguitemi. Andiamo, vieni con me. Sì. Sì. Grazie a tutti.